Grazie 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 Buon 1 A 1 2 Di 5 lunedì Gioco Veramente Importanti Per il portiere Ospite E riparte quindi intanto la formazione ospite con Rotaru che va a gestire il pallone, lo scarica, ancora bel gol, bel gol, bel gol di Lossicero e si passa quindi sul 2 a 1 per la formazione ospite. Siamo qui in presa diretta dal Palazzetto dello Sport di Via Mola di Santa Maria. Stiamo trasmettendo la diretta della sesta giornata del campionato di Serie A Gold tra l'HC e il Banco Popolare di Fondi in possesso della palla in questo momento contro il Romagna. Un vero e proprio scontro salvezza. Il Fondi ha un impunto mentre Romagna finora in 5 partite non ha conquistato neanche un punto. Chiarini palleggia insieme a Rotaru. Rotaru ancora con il pallone tra le mani. Adesso cominciano a muovere questi giocatori in maglia scura. C'è intanto un, vediamo un po', un'ammunizione per il numero 38 di casa, esattamente Luis Serena. Quasi 7 minuti di gioco. Il punteggio è sul 2 a 1 per la formazione ospite con Rotaru. La scambia con Chiarini. Ancora è usato per un passo del numero 7 Mazzanti. Riparte la formazione di casa. Buono il recupero di Cagnette. Gran gol, gran gol. Gran gol di Cagnette. Quindi si passa un punteggio di 2 a 2. La partita stenta un po' a degolare. Diciamo che anche la temperatura all'esterno non favorisce certamente l'agonismo. Siamo ancora in piena estate e affondi quando stiamo addirittura al 21 ottobre del 2022. Siamo intorno ai 26-27 gradi. Intanto c'è però un fallo in attacco della formazione ospita. E poi le partite di Micelli. Dicevamo insomma che le temperature ancora abbastanza estive per essere estive. Un gran gol. Un gran gol del numero 38 Arena. Che quindi ci fa perdonare l'ammunizione di prima. Quindi andiamo sul punteggio di 3 a 2 per l'HC Banca Popolare di Fondi. Dicevamo un vero e proprio scontro salvezza. La formazione ospite a 0 punti. Il Fondi ad un solo punto. E' veramente importante la posta in palio questa sera. Per la finatura diciamo che nonostante, sì però errore dalla distanza, però che è un 9 metri per la formazione ospite. Dicevamo nonostante tutto per la finatura lo spettacolo si può dire tutto sommato godibile. Anche se insomma la qualità al momento ancora non è venuta fuori. Siamo ancora alle prime battute di gioco. Ricordiamo che siamo neanche al nono minuto di gara. C'è Rotaru che lascia il pallone al numero 7 Mazzanti. Poi c'è la conclusione di Rotaru. C'è il gol. Il 3 a 3 quindi in questo momento. Stavolta c'è un fallo, un tiro di rigore per il Fondi, per un fallo su un giocatore. Vedremo tra poco il nome che dovrebbe essere Arena, ma no. E' il numero 29, il numero 29 di casa a Giuseppe Speranza che sta giocando la pivot. Tanto Cagnetti va alla conclusione e realizza il tiro di rigore portando nuovamente il Fondi avanti sul 4 a 3. Quindi il Fondi quest'oggi sta giocando senza un pivot di ruolo. Si sta adattando al ruolo Giuseppe Speranza. E' una perdita importante quella del pivot territoriale di questa stagione Cagnanovic. Ma come dicevamo poc'anzi, la società è intenzionata ad acquistare un alto pivot. Intanto però gran bel movimento di un giocatore ospite che va a realizzare il gol del 4 pari. Con la speranza che si muove bene e poi subisce un altro fallo. Quindi sarà un tiro da 9 metri per la squadra di casa. 10 minuti e mezzo di gioco. Punteggia ancora sul 4 pari. Adesso è entrato il numero 24, Aaron Dunwalder. E' proprio lui con la palla con le mani e poi la conclusione ed arriva anche il... No, non è gol. Sembra non essere gol. Il gol invece si viene assegnato il gol al Fondi. 5 a 4 quindi per il Fondi. Vediamo... Cosa è accaduto? C'è probabilmente un 2 minuti... Sì, infatti c'è un 2 minuti... Manca un elemento in campo per la formazione ospite e il portiere, il portiere che va... Portiere... Redelli che avrà preso i 2 minuti... Quindi il... Romagna si ritrova a disputare adesso la partita con un uomo in meno almeno per un tempo di 2 minuti. Intanto c'è un pazzo della formazione ospite... Però comunque c'è un uomo in meno per il Romagna... C'è un uomo in meno... Quindi era probabilmente un... Un schema d'attacco che prevedeva il non utilizzo del portiere. Adesso riprende il pallone e infatti... Infatti la formazione ospite quando attacca toglie il portiere... Invece un altro muovo di movimento per cercare di limitare gli effetti dell'uomo in meno... Baio Ar medi... Caralino... Intanto Rocaro che serve... Speaking so recall... È un'ecchetta subito di animazione... Riccobra il pallone il... No... È una rimessa... il troppo da 34... ospite Cassinari a gestire il pallone poi si alza il numero 8 chiarini però la conclusione termina fuori può ripartire il Fondi, intanto è ritornata in parical anche la formazione del Romano che prende un altro gol e quindi si va sul punteggio di 6 a 4 per il Fondi 13 minuti e mezzo di gioco il punteggio dice Fondi HC Banca Popolare di Fondi 6 Romagna 4 stanno evidenziando in questi primi 13 minuti di gioco insomma le difficoltà della formazione in maglia scura molti errori tecnici per ora segnalati intanto c'è un 9 metri per la squadra ospite che avrà un'altra occasione per ripartire Carini poteva c'è un curve e poi lascia la possibilità dell'altro compagno intanto c'è un tiro di Rotari però c'era già stato un fallo in attacco ancora un errore della sorta con un'altra occasione che si vede la diretta si vede la diretta si vede la diretta la squadra ospite a gestire questo pallone punteggio sempre di 6 a 4 per l'HC Banca Popolare di Fondi con i chiarini poi attenzione al movimento ma c'è un fallo in attacco un ascondamento diciamo insomma che gli errori che è che la formazione ospite si stanno ripensando se c'è un tiro di vigore per la squadra di casa sarà ancora probabilmente Cagnetta a prendersi questa responsabilità intanto viene viene fermato il gioco anche per chiamare un ragazzino che per asciugare il parquet dal segreto di giocatore possiamo garantire che qui a Fondi ancora fa abbastanza caldo per essere comunque ormai la fine di ottobre intanto al tiro di vigore di Cagnetta che va a mettere in giacinio il gol del 7 a 4 tiro alto ancora un tiro alto della formazione ospite al tiro del numero 7 di casa la talla che però termina fuori e riparte quindi la formazione ospite del Romagna buona anche l'intensità della fase difensiva della formazione di casa un'altra conclusione che termina fuori da parte del condividere di Cagnetta Cagnetta si sta rivelando un giocatore molto prezioso per quanto riguarda il gioco della formazione di coach De Santis soprattutto come redditività a livello di reti importante soprattutto in uno sport come la pallamano numero 12 Tassinari prova uno schema poi vediamoci ecco c'è 9 metri per la squadra ospite torniamo a punteggio di 7 a 4 per il Fondi c'è un ammunizione intanto per un altro giocatore dei Fondi dovrebbe essere proprio speranza il numero 2 numero 2 di casa Ciccolella che va ad essere ammunito da uno dei due arbitri col parquet buono il della palla adesso la si ama però la passurità arriva il gol del 7 5 dun balder 9 metri per il Fondi Ciccolella dun valder ancora dun valder cagnete si muove intanto la fase d'attacco della squadra di casa con cagnete fa una finta terminata però c'è un tipo c'è un po' che vincitono gli arbitri sembrerebbe un due minuti ma si c'è un due minuti e un tiro di rigore per il Fondi quindi alla conclusione andrà Cagnete quindi Romagna si ritrova nuovamente con un uomo in movimento in meno su punti due sette a cinque intanto arriva il gol dell'otto a cinque e quindi si riparte con il Fondi avanti per di tre reti un a cinque a cinque cinque avanti a cinque avanti di a cinque di a cinque con Balder Cagnetti poteva addirittura provare la conclusione da lì invece poi c'è un fallo e un attacco da parte del numero 2 sul polello. Quindi ripartono gli ospiti che però in questo momento rimangono ancora con un uomo in meno infatti sono sei uomini di movimento in tutto il totale. Questo è un bel gollo, questo è un bel gollo questo che realizza adesso il domani quando siamo arrivati al ventesimo minuto di gara esce intanto Turnvalder, manca poco anche al rientro in campo del gioco del Romagna che ha scontato i due minuti di penalità per poco il Fonghi non perdeva un sanguinoso pallone e poi arriva il gol, il gol del 9 a 6. Pian pianino il Fonghi sta creando la distanza necessaria a poter chiudere probabilmente la prima fase di gara in vantaggio il punto è totalmente scuso, 9 a 6 per il Fonghi. Fonghi, al di là degli errori che accrinci della formazione ottica, diciamo che anche la fase difensiva del Fonghi sembra molto migliorata rispetto alle ultime partite. Romagna che prova in settimana per l'altro chiama il gioco passivo e arriva alla conclusione del numero 7 mazzanti che però viene respinto da Facullo e quindi si va ancora al possesso di palla per l'HC ma anche popolare di Fonghi. Ricordiamo che stiamo trasmettendo l'incontro di palla a mano di serie a gol maschile tra HC Banca Popolare di Fonghi e il Romagna con la formazione di Rosso Blu di casa in possesso della palla. avanti per 9 a 6 intanto ha un gioco sull'ala ed arriva il 10 a 6 per il Fonghi. Un bel gol, un bel movimento, un gioco sull'ala importante. Quindi aggiorniamo il punteggio che vede il Fonghi avanti il 4 reti, 10 a 6. La conclusione del numero 16 Garcini è un gioco sull'ala ed è un gioco sull'ala ed è un gioco sull'ala ed è un gioco sull'ala. Il numero 15 Diego è ostacolata da Essam Murad e quindi c'è un tiro da 9 metri per la squadra di casa. Quindi si riparte con la palla tra le mani del gioco di casa. Niceli, stavolta si prova a servire il numero 7 Niceli che però stavolta fa sbattere la palla. Eh, è qui un bel gol intanto. E se gli avvicini a Romagna, 10 a 8 per il Fonghi. Oh, la conclusione termina fuori. Però c'è un tiro di rigore, un tiro di rigore per il Fonghi. Quindi se ne partirà con un tiro di rigore per il Fonghi. Ancora con Cagnette, con la linea di battuta. E' ancora infallibile in questa gara il volatore Fonghi. E' il punteggio di parte sul... 11 a 8 per il Fonghi, intanto c'è un time out che è male della formazione ospite. Quindi ricordiamo che stiamo trasmettendo un incontro di palla a mano di serie a gold maschile tra l'HC Banca Popolare di Fonghi che attualmente è in vantaggio con 11 reti contro il Romagna. Il Romagna che sta attaccando da sinistra verso destra dalla vostra visuale. E quindi... Posso andare? Quindi ritorniamo in cronaca diretta con il tempo che riparte dopo 23 minuti e 40 secondi di gioco. con il punteggio di 11 a 8 per l'HC Banca Popolare di Fonghi, intanto c'è un vantaggio. L'arbitro non pisca il fallo. Ah! Attenzione a questa palla recuperata. Buona anche la posura difensiva di Cagnette che riesce ad impedire che la conclusione di Garini potesse impensalire Facundo. Intanto viene ricamato un ragazzo ad astrucare il parquet. quindi ritorniamo a sistemare anche il timer. Queste le parti quindi quando mancano poco meno di 6 minuti alla fine del primo tempo HC Banca Popolare di Fonghi, un gioco di Garini, va a segno, un bel gol. Però errore è qui della fase difensiva del Fonghi perché trova una vera autostrada davanti a sé il giocatore ospite. Non si fa ripetere la cosa due volte, va a bucare la porta difesa da Facundo. quindi dicevamo del punteggio, quindi adesso sono 11 a 9. È un po' calata la produttività del gioco del Fonghi. Ne sta approfittando il bravissimo qui Facundo. Diciamo ne sta approfittando la squadra ospite. però ancora errori su errori da una parte da l'altra una volta a Bandini, un'altra invece il numero 19 di casa di Luca. Quindi il punteggio rimane fermo sull'11 a 9 per l'HC Banca Popolare di Fonghi. E' Rutaru che va a seguire il pallone a Bandini. Vediamo se Bandini si fa perdona ancora una volta. Viene invece trattato in dola il suo tentativo di arrivare al gol più buono. il movimento per il numero 7 Micheli. Un bel gol ma tutto bella anche la trama di Zoto che lo ha portato al gol con un ottimo assist di Cagnetti che ha trovato il compagno libero davanti al portiere Regaelli Bucandolo portando il punteggio sul 12 a 9 per l'HC Banca Popolare di Fonghi. Un vero e proprio scontro, la salvezza. E ci continuano gli errori però c'è intanto un 9 metri. Probabilmente chiedono... No, si può quindi andare alla battuta di questo chiedo che è 9 metri. Tassinari. Rotaru, attenzione ancora a questo errore in fase di gioco con il numero 13, lo siccero. C'è un 9 metri per un fallo su Sam. Intanto c'è un altro gol. Quindi si va sul 12 a 10. Mancano tra poco 3 minuti alla fine del primo tempo. Errore da una parte che dall'altra. La posta in gioco è veramente molto alto. Qui è bravo Regaelli però c'è un tiro di rigore ancora per il Fonghi. Diciamo che la posta in gioco è davvero molto alto. C'è il gioco che è il campionato. Questa è la sesta appunto. L'HC Banca Popolare di Fonghi si trova con un solo punto. Mentre il Romagna si trova ancora a 0. Ancora ha segno Cagnete. Rotaru per lo Ciccero. Il Ciccero che prova a servire ancora Rotaru, prova a muoverci per Essam. C'è però 9 metri per il Fonghi. Per il Romagna, scusate. Occhio al buon movimento. Buonissimo il movimento. Poc'anzi stavamo dicendo è calata anche un po' l'intensità della fase difensiva del Fonghi. La formazione ospite nonostante tutto riesce a mantenersi in linea di galleggiamento. con un ritardo di 2, massimo 3 gol. Fonghi ha un vantaggio massimo di 3 gol. E' un vantaggio che comunque rimane poco rassicurante. C'è una palla ancora persa dalla squadra di casa. Molta tensione in campo. Certo, la porta in gioco è veramente molto alta. Portare a casa una vittoria sarebbe fondamentale per entrambe le squadre. E' un bel gol. Veramente un bel gol. Questa volta veramente un bel gol. E si riavvicina il Romagna. E questo c'è un time out. Quindi ritorniamo in presa diretta dopo il time out. Intanto c'è un ragazzo che va ad asciugare il partino. Poi si è giusto per asciugare il partino per quanto riguarda la panchina del Romagna. Quindi si riparte con un... Aspettiamo che... Si possa ripartire. Ecco Cagnete. Dunvalder. 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 Dunvalder ci muove bene. Poi... Errore di Dunvalder. E poi ripartire. La formazione è più bella. Un recupero. Un recupero. Un recupero. Un recupero. Un recupero. Dello sport da Stati Fondi. E arriva il gol. Del 14 a 12. Mancano esattamente 20 secondi alla fine del primo tempo. Quindi si dicherà il tempo con il Romagna. che come è partito bravo. Quindi possa essere bravo. Si è ancora un errore della formazione ospite. Mancano 5 secondi. Bisogna tirare. Arriva il... Gol. Si. Arriva il gol. Quindi si conclude il primo tempo sul punteggio di 14 a 13 per i fondi. Ci vediamo alla fine del secondo tempo. Quindi ritorniamo in diretta dal palazzetto dello sport. Sott'Adi Fondi di via Mola di Santa Maria. Quindi... Si riparte con l'incontro. Lo ritorniamo di serie a gol maschile tra HC, Banca Polare di Fondi e il Romagna. Il primo tempo si è concluso sul punteggio di 14 a 13 per la formazione di coach De Santis. C'è un tiro di rigore per il Fondi e ancora a segno con brivido. Questa volta Cagnetti. Quindi si torna nuovamente a più due per i fondi. HC, Banca Polare di Fondi, 15. Romagna, 13. Rotaru, Mazzanti. Ancora Rotaru, Mazzanti. Stavolta perde ancora un pallone la formazione ostica. Può ripartire il Fondi. Attenzione alla conclusione di Luca. Però vediamo cosa c'è con un probabile due minuti per un giocatore del Romagna. e infatti il numero 13 stavolta, lo sincero. Quindi il Romagna si troverà con un uomo in meno. Ancora un tiro di rigore per la formazione di coach. E' ancora a segno Cagnetti. Quindi siamo sul 16 a 13 con il Romagna con un uomo in meno per due minuti. In campo anche il numero 9 è Bandini. Ci sono Mazzanti, Bandini, Rotaru e il numero 16. No. Il numero 9 adesso è Bandini che fa una palla. Mazzanti si muove bene in aria però poi subisce fallo. Tiene da 9 metri per il Romagna. Il numero 99 è anche Ceroni. Ecco il numero 99 è il numero Ceroni. Rovatt–Rotaru Buono 연습are nella difesa della difesa del Fondi. Si alzia ma Zanchi ma poi c'è un fallo in attacco buono buonissimo ah peccato troppo buona la trama di gioco questa volta dell'HC Fondi punteggia ancora 16 per l'HC Banco Palazzo di Fondi e 13 per il Romagna Maggianti Rotaru Bandini Rotaru Teroni che va a gestire un pallone per fare partire la manovra attenzione perché potrebbe essere chiamata la buonissimo bel gol bel gol stavolta del Romagna con Rotaru puntetto quindi sul 16 a 14 Fondi che non riesce a dare quel colpo di gas come si direbbe in questi casi intanto noi aggiorniamo il 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 timing con 3 minuti e 45 di gioco il Fondi avanti di 2 gol 16 a 14 De Luca poi poi anche il numero 15 attenzione a Dieghez che è un fallo sul numero 38 di gas arena luigi arena quindi si può ripartire con un 9 metri per il fondi l'HC banca colare di fondi con speranza che palleggia però ancora siamo in fase di ripresa del gioco non c'è ancora le partite ufficialmente e si riparte in questo momento Dieghez buono Dieghez bravissimo Radelli fare un buon intervento buono un intervento che è portato e attenzione alla conclusione del gol del Romagna che si riporta sotto di un gol la partita è ancora aperta probabilmente anche di merito del Fondi perché Romagna ha degli evidenti limiti cattici e probabilmente il Fondi anche per via delle tante essenze e delle tanti infortuni non riesce a fare creare quel solto che le potrebbe permettere di portare a casa i due punti intanto c'è un tiro di 9 metri e c'è anche un 2 minuti per il numero 7 mazzante ancora un 2 minuti per i giocatori ospiti e c'è un tiro di rigore alla battuta questa volta andrà il numero 19 di Luca e che lì assegno per il 17 a 15 ma dato comunque merito al Romagna al di là insomma delle difficoltà di stare disputando comunque una vincitosa partita probabilmente è più il demerito della formazione di tutti e tanti e non riuscire a creare quel gap che potrebbe mettere in prospettiva i due punti per la formazione fondale però magari merito come diciamo prima al Romagna che non arrendersi sicuramente le difficoltà per la formazione ospite sono evidenti però la buona volontà certamente non manca intanto c'è un tiro di punizione dai 9 metri per una squadra ostica che è sotto di due domi continua ad impegnare la squadra di casa intanto c'è via grazie per Tannete Dieghez oh bel movimento ma si mette le mani Regaelli che si sta ben distinguendo in questa partita con alcuni interventi sicuramente molto preziosi per la sua squadra che gli permettono di restare ancora in partita intanto Romagna è ritornato con gli effettivi in campo ancora un errore la parte del Fonghi e riparte il Romagna si ferma stavolta Tassinari vuole riflettere il capitano del Romagna intanto prova è un bel gol di Tassinari bel gol sotto di un gol il Romagna 17 a 16 gol è un gol un bellissimo gol di del numero 38 di casa da Luigi Arena è un bel veramente importantissimo perché il Romagna si era portato sotto di un gol e questo gol di Luigi Arena riporta il Hc manca un po' larghi fondi avanti di due gol ma attenzione a Romagna è un gol due gol uno più bello che l'altro per il Romagna 18 a 17 attenzione a Re ancora un errore ma ancora bravo ancora bravo Regaelli complimenti al colchiere ospite si sta veramente comportando direggiamente aumenta la pressione sui portaturi di pallo ospite capitano Tassinari capisce che il momento può essere importante va a subire un 9 metri attenzione perché il Pondi se non sta attento può veramente mettere a repentaglio una prestazione sufficiente non particolarmente brillante però soprattutto può rischiare di non portare a casa una vittoria che sarebbe importante per la sua stagione intanto arriva il pareggio di capitano Tassinari e quindi si va su 18 pari al nono minuto di gioco 18 pari 18 pari Romagna che non demorde ma è il Fondi che di solito nel secondo tempo il Fondi da sempre meglio che se invece almeno fino ad ora sembra che stia calando molto la qualità del gioco della squadra di casa qui anche un 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 appassio no c'è un time out chiamato da coach De Santi che vuole vedere studiare quindi ritorniamo in con la cadiretta quindi Romagna non sta demordendo e il punteggio lo dimostra 18 pari però c'è un calo dell'HC Pondi che coach De Santi è saputo vedersi chiaro con i suoi giocatori chiamando un time out però l'errore in fase d'attacco della squadra di casa vi nota una certa tensione anche nei giocatori capitan Tassinari sta gestendo adesso la fase d'attacco del Romagna con molta molta prestigata Lerotaro poi ancora Tassinari a saltare poi si ripensa e attenzione perché c'è la passività bisogna andare a concludere intanto c'è un fallo su Tassinari 9 metri per il Romagna ho ancora una conclusione della squadra ospite con lo scicero la palla che però termina fuori il giocatore sia Cagnetti che però subisce un pallo dai 9 metri 2 minuti ancora per il Romagna stavolta è il numero 6 no numero 8 Chiarini che va ai 2 minuti quindi c'è intanto un ok quindi ritorniamo in con la catiretta quindi c'è un uomo in meno per il Romagna per i 2 minuti per Chiarini occhio a De Luca ancora un buon intervento di Regaelli che impedisce anche che il pallone puoi chiare meno fuori il Romagna un uomo in meno certamente l'impegno non sta mancando nel Romagna che tutto sommato in questo secondo tempo sta dimostrando anche un coraggio diverso rispetto alla prima questione questione ammazzanti che potrebbe concludere poi a subire un 9 metri ancora ancora Regaelli vediamo se anche questa volta il giocatore fondale andrà a segno quindi si fa su 20 a 19 per i sfondi quindi si resume che si andrà punto a punto intanto c'è un no no si fa punto a punto sembra che fosse un ipotetico time out no si riparte quindi con lo cicero tassinari mazzanti lo cicero poi ancora lo cicero per tassinari 9 metri ancora per il Romagna ci andrà quindi a punto a punto meta oh ok 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 Il Romagna è con un uomo in meno per i due minuti a Rinaldo Ceroni. Il Romagna sta disputando una nuova onesta partita. Siamo ancora alla formazione ospite. Sono anche noi negri. Mazzanti prova. Oh! La Xam! Goal! Goal! 20 pari! 20 pari! Vediamo cosa succede adesso. Un'amulizione per Cagnetta. Cagnetta. Quindi si riparte con il... Intento di 20 pari. E' stata una qualche discussione con un'amulizione anche a Cagnetta per il gol di Esam che sembrava per i giocatori di casa che la fada non avesse superato interamente la linea della porta di pesa da Facundo. Poi invece... E' bravissimo stavolta il portiere di casa. Vole partire il fondi con Cagnetta. Michele... Vanoli... Cagnette... Cambia contenuta ancora Vanoli. 9 metri, 9 metri. Quarto d'ora del secondo tempo. Sono passati tre quarti di gara e il... punteggio è sul... 20 pari. Certamente il merito va dato a Romagna di non avere mai... abdicato... almeno dal punto di vista dell'orgoglio e della volontà. Quindi l'Alfondi va imputato... una sacca di lassatezza in questo secondo tempo. Poi avremo modo anche di parlarne con... Gli esponenti della trattata di casa. E... Gennuti per... il numero... 13... però... tanto giro di rigore per... Cagnette... e ancora va a segno... e si riparte quindi con... il... punteggio che vede... l'HC Banca Popolare di Fondi... avanti di un gol... 21... a 20... contro il Romagna. Romagna che soca con un uomo... in... meno per due minuti... a... non fa peggioratore... non fa peggioratore? Questa entra il Sam... come... sesto uomo di movimento... 9 metri per gli aspetti... la confusione di... Capitan... Tassinari... la buona... risposta di Facundo... e la palla... il momento della parte opposta... con... Banoli... che serve di Luca... che però... perde l'attimo... e parte quindi... l'HC Banca Popolare di Fondi... in possesso della palla... Cagnetta... potrebbe alzarsi al tiro... poi serve Manoli... bel gol... bel gol... bel gol... 22... a 20... 17 minuti... e 28... secondi... in questo secondo tempo... mini break... 2 a 0... per il... l'HC Banca Popolare di Fondi... vediamo se Romagna... accoglierà il colpo o meno... intanto è... Rotaru... una visibile fascia... in... testa... Rotaru... che va a servire il... numero 13... lo cicero... che va a segno... e rimane quindi ancora in... partita in Romagna... a partire adesso... si sta anche rivelando... bella da... da commentare... che il... numero 10... di Manoli... Speranza... poi... ancora... Manoli... del Romagna... 18 minuti e 46... secondi di gioco... partita... ci sta rivelando... anche... diciamo... interessante... gioco appunto appunto... il Fondi... ha creato un mini break... di due gol... subito... recuperato... dal... Romagna... tre ancora... il... fondi a... in fase d'attacco... e tanti... infortuni... nella squadra di casa... possono essere... una giustificazione... fino a un certo punto... Romagna... che è sembrata... squadra... alla portata... della... formazione di Sanchez... qui... sulla traversa... di Cagnete... permette... al... Romagna di... avere un po' il processo palla... che potrebbe rivelarsi... anche... quello del... quindi si riparte... con... il... Romagna... il processo... della palla... che può... rivelarsi... il processo... che è un possibile vantaggio... per... la squadra... Romagna... che in questo secondo tempo... dicevamo... sta distruendo... un'altra partita... errori... sempre... però... c'è sicuramente... una maggiore... caparbietà... nel voler... in maniera... in partita... intanto... c'è il... gol... del... numero... trentotto... di casa... Fuggirena... 23... 22... 20 minuti... e 27... secondi di gioco... è un vero e proprio scontro... salvezza... e questo... lo dimostra anche... il punteggio... abbastanza basso... cosicero... ora... qui la difesa... della squadra di casa... poi... del gran gol... un gran gol... che va a spegnere... l'entusiasmo... treando... due arini... quindi... si va sul... 23... pari... si lotta... punto... a punto... punto... a punto... la difesa di casa... si fa sentire... e... di dare anche... un po' di incoraggiamento... ai propri giocatori... buon valder... poi serve... bel gol... adesso... ci stiamo... vedendo... vedete... dei bei gol... e qui è il... gol... di Dieghez... numero 15... no... no... è sempre di Cagnete... è sempre di Cagnete... veramente... è un bel gol... questo di Cagnete... adesso... sta migliorando... anche la qualità... delle... reti... a cui stiamo assistendo... e la partita... sta diventando... anche... piacevole... da vedere... ma... altra volta... invece Facundo... dice di no... tutte le gambe... e in fondo... davanti... con un gol... di... vantaggio... e poi... va a perdere... malamente... questo pallone... questo... guarda... a terra... possiamo immaginare... cosa starà pensando... in questo momento... passiamo a voi... insomma... qualunque ipotesi... Arena... Viede... no... Burbalder... attenzione... non così... Cagnete... una volta... la palla... termina... dalle gambe... che il portiere... che fa buona guardia... ancora una volta... bravo... il portiere... ospite... che riesce a mantenere... in... linea di galleggiamento... il... Romagna... sono due squadre... che hanno... delle difficoltà... questo è abbastanza... palizzo... però... il merito... della squadra ostica... almeno... in questo secondo tempo... è quello... di non avere... una gran parata... di... Facundo... bravissimo... stavolta... veramente... mette la mano... dove serve... bravissimo... De Luca... Arena... Vanoli... si muovono i gelatori... che la fa... squadra di casa... attenzione... al gol... oh... oh... fai il gol... anche questo... 25... a 23... per... l'HC... Banca Popolare di Fondi... contro il... Romagna... setta giornata... del... campionato... di sedia colto... partire... Fondi che... crea un mini break... di 2 a 0... Rotaru... fallo in attacco... fallo in attacco... quindi... adesso... perde un po' di lucidità... la squadra... Vanoli... 9 metri... ancora... per il... Fondi... Mancano meno... di 5... in questo momento... mancano 5 minuti... alla fine... della partita... e il Fondi... avanti... su due gol... eh... però c'è un... fallo in attacco... quindi... eh... erroraccio... erroraccio... del... Romagna... e pensiamo che... questo errore potrebbe... rivelarsi... se non decisivo... compromettere... una prestazione che nel secondo tempo... almeno per quanto riguarda... la formazione del Romagna... è più dignitosa... adesso diciamo che... si è alzato anche un po' il... livello del... Fondi... probabilmente... hanno capito... il rischio che stavano correndo... e hanno cominciato a fare... un po' su stelle... rimangono le difficoltà... per la squadra di tutti... pesanti... qui però... perde la palla... malamente... la squadra di casa... e Sam... la recupera... e la dà... Rosaru... buona qui la difesa di Romagna... ma... altro errore... del Fondi... è stato... adattato... nel ruolo... speranza... però... è naturale... che... quando non hai un... pivot... di riferimento... tutto diventa... dannatamente... più difficile... 26 minuti e mezzo di gara... nel secondo tempo... 25... 23... per il Fondi... intanto... arriva il... 25... 24... per il Romagna... attenzione... la partita... si può giocare... punto a punto... però... avere... un possesso di vantaggio... almeno... a tre minuti dalla fine... della partita... può essere sicuramente... psicologicamente... importante... però... attenzione... perché la palla può pesare... una tonnellata... si sente anche il peso... della responsabilità... intanto c'è un... c'è un palo che succede... con 9 metri per il... Fondi... 9 metri per il... Fondi... Arena... Vanoli... Cagnetti... Vanoli... si muovono adesso i giocatori... di casa... Vanoli... Cagnetti... gran gol... gran gol... 26... a... 24... adesso sale anche... la temperatura... come entusiasmo... nella tipologia di casa... Romagna... continua... a... a non demorgere... Zarrotaru... e... ancora... un grande... intervento... di Facundo... a 2 minuti... alla fine... Molta il pugno... Facundo... Molta il pugno... Molta il pugno... Attenzione... due... due punti di vantaggio... c'è un... time out... chiamato... dal... con il... l'HC Banca Popolare di Fondi... in vantaggio... per 26... a 24... sul... Romagna... campionato di serie... a gol... maschile... di palla a mano... Sesta giornata... per l'HC Banca Popolare di Fondi... attenzione... intanto... un... fallo... delle... numero 9... di Bambini... Meno di un minuto... gol... il... gol... del 27... 34... e quando manca... meno di un minuto... alla fine della partita... ha ancora... una parata... di Facundo... e ancora... il pugno... stavolta... il sinistro... che è il portiere... di casa... 27... 24... mancano... 50... secondi... presso in alto... del... Romagna... ha dato comunque... merito... alla Romagna... di non avere mai... fatto... la vittima sacrificale... ha dimostrato... degli evidenti limiti... ma tutto sommato... una squadra ospite... si è ben comportata... intanto però c'è un... che anche il gol... quindi... 27... 25... ormai mancano... 10 secondi... e arriva quindi... in questo momento... in questo momento... arriva il finale... la prima vittoria... per l'HC... Banca Popolare di Fondi... tra le Muramiche... 27... a 25... contro il... Romagna... quindi io direi che... possiamo anche fermarci qui... e augurare a tutti... una buona... serata... che... 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 che...